Ero di fretta e allora ho chiamato un bel taxi per farmi portare alla stazione Salve, alla stazione grazie, sono un po' di fretta, guardi la stazione è dall'altra parte Lo so, sto seguendo il navigatore Scusi poi siamo appena partiti e il tassametro segna già 28 euro, abbia pazienza Ma certo perché il tassametro parte all'inizio della corsa Io ero in piazza Poltronieri e per venire al suo civico ho dovuto fare una marea di sensi unici Lei non ha neanche idea Ma cosa sta dicendo? Io abito in piazza Poltronieri, dai doveva fare mezzo giro della piazza Sì ma il mio navigatore per farmi evitare il traffico mi ha fatto passare davanti all'ospedale Comunque se ne sa più lei del navigatore mi dica dove devo andare Ripassiamo davanti all'ospedale